Buongiorno e benvenuti a 10 minuti al giorno di do Terra, tolgono il medico di torno. Oggi volevo trattare l'argomento del cuore. Come possiamo aiutare il nostro cuore ad essere sano ed in salute? Prima cosa volevo dirvi che come sappiamo e sappiamo tutti che il cuore è un muscolo, è un organo muscolare che è il centro motore dell'apparadio cardiocircolatorio e questo fa sì che noi siamo vivi. Sapevate che, non so quanti di voi si siamo chiesti, mi hai chiesti quante volte il cuore batte in una vita, in media? Sto guardando alcuni appunti che ho preso appunto da internet e da fonti sicure perché l'Università di Oxford ha fatto questo, ha studiato, ha fatto una ricerca a riguardo e ci dà una risposta. La risposta è 3 miliardi, ok? 3 miliardi di battiti del cuore in una vita media, da quando nasciamo a quando moriamo. E quindi mi fido, se l'Università di Oxford ha fatto uno studio, una ricerca a riguardo, mi fido ciecamente di questo risultato. Andiamo a vedere cosa possiamo fare per il nostro cuore praticamente. Alla base del benessere fisico c'è sempre l'alimentazione, dopodiché c'è l'esercizio fisico e anche il benessere emozionale, quindi emotivo. Partiamo con l'alimentazione che è sempre alla base della salute, del benessere. Sicuramente per il nostro cuore il cibo è importantissimo, un po' come se paragonassimo il nostro corpo ad una macchina, possiamo dire che non andiamo a mettere benzina in una macchina a diesel o al contrario mettiamo diesel in una macchina a benzina. Quindi cosa andiamo a mettere in questa macchina, nel nostro corpo? Parliamo dell'alimentazione sana per il nostro cuore specificamente oggi. Sicuramente il cibo integrale, quindi tutto ciò che è integrale, favorisce le funzioni del nostro cuore. Quindi andiamo a parlare di riso, pasta integrale, farine integrali, anche tutti quei chicchi di grani, chicchi vari che possono aiutare il cuore a star bene. La cipolla è fantastica anche, aiuta il cuore. Le noci, quindi acidi grassi nelle noci. Possiamo dire che anche le bacche, quindi alcuni frutti in particolare, dopo trattiamo quali frutti sono quelli che fanno bene al cuore. Quindi diciamo che l'integrale è ottimo, ok? Preferiamo l'integrale alle farine bianche, allo zucchero bianco. Quindi preferiamo anche lo zucchero integrale, ok? E siccome non ci nutriamo spesso bene, purtroppo, pensiamo magari che mangiamo sano, ma in realtà non lo sarà mai completamente. Dovremmo mangiare crudo, dovremmo mangiare veramente in modo perfetto ed equilibrato. Purtroppo questo non avviene con la maggior parte di noi. E quindi possono aiutarci dei succhi, dei smoothie, conosciuti come smoothie, sono dei succhi di verdura e frutta. Lì possiamo aggiungere appunto anche altri semi, per esempio la quinoa, la chia, sono veramente tantissimi prodotti in natura, biologici ovviamente, buoni e puri. Che possiamo aggiungere ai nostri smoothie che ci danno anche l'energia necessaria. Quindi al cuore danno il nutrimento e l'energia giusta per continuare a battere e a fare il suo lavoro. Proprio perché non ci nutriamo nel modo giusto, io andrei a consigliare degli enzimi come supplementi da aggiungere alla nostra dieta. Che non fanno altro che aiutarci a far sì che possiamo digerire meglio fibre, carboidrati, grassi, proteine. Quindi conviene appunto aggiungere degli enzimi. Il prodotto della doTERRA che vorrei consigliarvi si chiama il Terrazyme, che è della linea del Digetzen, Digetzen. E io l'ho usato ed è molto molto, è fantastico perché veramente aiuta a dare quegli enzimi laddove mancano, secondo appunto, in base a quello che mangiamo. Se siete poi interessati, commentate anche il video e vi darò maggiori informazioni su questo prodotto. Continuiamo, ancora alimentazione per il nostro cuore. Sicuramente, la frutta e le verdura, come vi dicevo, la pasta dovrebbe essere consumata due volte a settimana massimo. E' importante favorire il pesce azzurro e il salmone, che sono ricchi di omega 3, anche questi acidi grassi sono buonissimi per il nostro cuore. Formaggio e yogurt possono essere mangiati anche con moderazione. Il cioccolato fondente, dolce se in fondo, il cioccolato fondente anche favorisce le funzioni del nostro cuore. Ovviamente non esageriamo, siamo saggi sulla quantità. I medici dicono un quadratino di cioccolato fondente al giorno farebbe bene appunto al cuore. E secondo me anche allo stato d'animo ci rende un po' più allegri proprio per quello che contiene. Come oli essenziali consiglierei, in cucina ovviamente, possiamo usare l'origano, il timo e il basilico insieme alle verdure. Quindi possiamo utilizzare questi oli essenziali in modo veramente, in dosi pochissime, bassissime, in cucina per il nostro cuore, che aiuta appunto a farci stare meglio. Il secondo gradino della piramide del benessere c'è l'esercizio fisico. Esercizio fisico fa benissimo al nostro cuore correre. Per chi non corre, magari camminare con un passo veloce, come piace a me, quello rende il cuore, lo mette in moto e gli dà modo di lavorare, di dare un po' di sforzo di lavorare, dà energia. E quindi il cuore è in funzione ed è allenato per il suo lavoro. Lo yoga anche aiuta tantissimo al cuore, perché lo yoga unisce anche delle tecniche di respirazione, di meditazione. Quindi lo yoga è anche molto ben consigliato. Ancora, vorrei tornare sul discorso della respirazione. C'è una miscela a doTERRA che si chiama Breathe ed è fantastica per liberare le vie aeree. Quella potrebbe essere usata, vi consiglio di usarla durante la vostra corsa o la vostra passeggiata, o comunque il vostro esercizio fisico, per aiutarci a respirare bene. Come sapete il cuore pompa pompa, c'è un via vai di sangue e quindi anche dire la respirazione è la chiave per la salute del cuore. Per meditare invece, parlando dello yoga, quindi tecniche di meditazione, io favorirei, cioè userei e suggerirei l'incenso, ho altri oli essenziali come il legno di sandalo, mentre meditiamo e respiriamo, quello circa 30 minuti al giorno, per favorire appunto la buona salute del nostro cuore. Sicuramente io limiterei l'alcol, eviterei del tutto il fumo, perché queste sono cose che veramente non fanno per niente bene al nostro cuore. Se siamo in sovrappeso, anche lì vi consiglierei di seguire un programma per perdere peso. E quindi diciamo fisicamente il nostro cuore è a posto, ok? Adesso cosa facciamo nella sfera emotiva? Il terzo gradino è proprio quello. Stiamo bene emotivamente? Sicuramente se il cuore sta soffrendo c'è una mancanza di gioia, c'è una mancanza di allegria, di felicità. Quindi andremo a agire con degli oli essenziali. Prima vi dico quali oli userei io e poi vi do un altro suggerimento. Quindi io userei per stare emotivamente bene, per aiutare il mio cuore nelle emozioni, userei il Balance, che è una miscela, vabbè non vi spiego adesso che cosa è, una miscela do terra buonissima anche quella, il Serenity, che aiuta anche a riposare bene, e la menta piperita, ok? Aggiungerei anche, fare un'altra miscela con il Citrus Bliss, che è anche un'altra miscela do terra a base di agrumi e vaniglia, con la menta spicata o menta verde, sono delle diffusioni, sono ricette che possiamo diffondere in casa, che vanno appunto a aiutarci a stare emotivamente bene, possiamo ridere, e ridere anche ci fa stare bene, fa bene proprio al nostro cuore, ridere, ridere e circondarci di persone che amiamo. Siamo con le persone che vogliamo bene, perché il nostro cuore si riprenderà automaticamente per questa ragione, perché sarà in compagnia di persone che amiamo, e lui avvertirà, il nostro spirito avvertirà questo amore, e così che il nostro cuore starà bene. Volevo, scusatemi, alla fine dei miei appunti, ho scritto, magari ve le metto in un commento, i cibi che aumentano la salute del cuore, ma anche che riducono il colesterolo, come l'avena, eccetera, però nella conclusione ve lo scriverò, anche perché i dieci minuti sono passati. Quindi, ecco a voi come possiamo tenere in salute il nostro cuore, e vi auguro e mi auguro che tutti noi possiamo voler bene al nostro corpo e al nostro cuore, perché se il cuore si blocca siamo finiti, siamo fritti, veramente. Quindi amiamo il nostro cuore, facciamo tutto quello che è possibile, per noi possibile, di amare questo corpo e tenerlo nel modo migliore, affinché tutti gli organi vitali possano compiere le loro funzioni in modo adeguato. E in questo caso il nostro cuore rendiamolo sano e aiutiamolo nel lavoro che fa per noi. Vi saluto, vi aspetto al prossimo video di 10 minuti di Uterra, al giorno levano il medico di torno, e per ora vi saluto. Ciao, ciao a tutti.